Un saluto a tutti i videoascoltatori d'Italia Medievale. Oggi vi presentiamo un bel saggio appena pubblicato da Liguori Editore dal titolo Con altra pelle. Maria di Francia, Shota Rustaveil e il Cavaliere Verde di Roberto Talamo, che abbiamo il piacere di avere nostro gradito ospite perché ci parli di questo volume molto interessante e dedicato all'epica cavalleresca medievale. Quindi io le lascio subito la parola. Prego, a lei. Grazie per l'invito Italia Medievale e saluto tutte le persone che guarderanno questo video. Il mio libro Con altra pelle, Maria di Francia, Shota Rustaveil e il Cavaliere Verde, uscito per l'editore Liguori quest'anno, 2024, diciamo l'anno naturalmente, è per me un libro particolare, nel senso che io non sono un medievista, ma un comparatista. Quindi il mio punto di vista è quello delle letterature comparate, della teoria letteraria. Di conseguenza le mie domande sono state soprattutto non di ambito storico, storiografico, quindi non ho tanto cercato un significato propriamente medievale in questi testi, ma paradossalmente attuale. Cioè vedere come questi testi medievali possono parlare proprio a noi, possono dirci tante cose, come possiamo metterci in ascolto di questi testi per conoscerci meglio, naturalmente. Sono partito da una domanda che riguardava un problema di teoria letteraria, cioè cercare di definire una idea del personaggio. Il personaggio come altro, come altro dal lettore naturalmente, ma come altro anche da quegli altri personaggi che possono apparire come figura del lettore, che possono incontrare direttamente il protagonista di una storia all'interno del testo, ma in qualche modo ci rappresentano, perché rappresentano i nostri dubbi, le nostre curiosità nell'incontrare, ed ecco il titolo del mio libro, un personaggio altro ma con un'altra pelle, altra completamente da qualsiasi possibilità di pelle umana. Infatti ho analizzato tre testi molto particolari del Medioevo, un testo in cui a essere protagonista è un lupo mannaro, quindi un versi pellis, colui che è in grado di mutare la sua pelle da uomo al lupo. Poi ho analizzato un testo che fa parte dell'immaginario arturiano, dove appare un cavaliere verde, ma non un vestito di verde, proprio con la pelle verde, i capelli verdi. E infine un testo molto particolare e poco noto, bisogna dire la validità in Italia, un testo georgiano, il principale testo epico georgiano, il Cavaliere dalla pelle di Pantera di Shotarustavelli. E anche qui nel titolo già è chiaro, la presenza di una pelle di Pantera che questa volta non sarà la vera pelle del protagonista, ma una pelle indossata, che però lo connota fortemente. E quindi l'idea di un altro perturbante, che può rappresentare un problema all'incontro, un problema per l'identità. Infatti il mio libro è anche teoricamente debitore rispetto alle riflessioni di Paul Ricoeur dedicate all'identità narrativa, al sé, che rappresenta per il filosofo francese l'abbandono della dimensione egoistica dell'io e verso un'idea di identità formata nel rapporto con l'altro, anche nello scontro con l'altro, magari con le ferite che l'incontro con l'altro ci può infliggere, ma da cui nasce una nuova forma di identità, una reciprocità mutua, un mutuo riconoscimento che può accrescere l'identità e portare a delle politiche di pace, come dice Paul Ricoeur. Ecco, questo è il quadro teorico da cui sono partito, un quadro moderno naturalmente con problemi che riguardano il presente, però ho indagato, ho voluto indagare questi testi medievali perché secondo me contenevano qualcosa di importante per noi. Io ho cominciato con il Lai, quindi il racconto in versi di Maria di Francia, intitolato Bisclaveret, dedicato proprio alla figura di un duplo mannaro. Cosa ho trovato in questo testo? In questo testo ho trovato una dinamica che ho definito dell'irriconoscibile. Per quale motivo? Quindi siamo proprio al punto di partenza di un movimento che ho seguito all'interno del testo. Perché al centro di questo testo c'è l'irriconoscibile. Innanzitutto nessuno dei personaggi di questo Lai ha un nome. Anche lo stesso Bisclaveret, il termine non indica il nome del protagonista, ma semplicemente è il termine che indica il lupo mannaro. Quindi non è un nome proprio, nessuno ha nomi propri. Nella dama, moglie di Bisclaveret, lo useremo così come nome ma non lo è. Sia il re, il sovrano di cui Bisclaveret è feudatario, sia un secondo cavaliere che intervengerà nella vicenda, anche un consigliere saggio del re. Quindi nessuno possiede un nome. Sicuramente già questo è un carattere particolare. Ci fa capire che questo Lai è un Lai che coinvolge profondamente l'identità. In effetti, raccontando brevemente la trama per chi non dovesse conosce, la cosa accade. Bisclaveret è un lupo mannaro molto particolare, perché non è un lupo mannaro feroce, tremendo, che attacca gli esseri umani. Semplicemente ogni tre giorni alla settimana deve trasformarsi in lupo, non sappiamo il motivo, forse è nato in questo modo, deve trasformarsi in lupo e vivere per tre giorni nella foresta e poi tornare da sua moglie nel suo castello per il resto della settimana. Naturalmente durante i giorni in cui è trasformato in lupo o vive di caccia, ma come qualsiasi animale, ma non è direttamente violento contro gli esseri umani. Questo ci tiene a dirlo Maria di Francia, non è uno di cui lupi mannari dice che si comporta in questo modo. Non è di quei lupi mannari che voglio parlare, dice Maria di Francia. La moglie però di Bisclaveret viene consumata dal desiderio di conoscere la realtà di questi tre giorni passati dal marito fuori casa. Il marito inizialmente non le racconta cosa fa in questi giorni e con tutti i mezzi che la poesia cortese concede ad una dama, facendo promettere al marito il nome del loro amore, ottiene la confessione che inizialmente Bisclaveret non vuole, non vuole dare, ma poi spinto da vincoli di cortesia, rivela alla donna. Da qui è amato e che ama, rivela il suo mistero. Ecco qui avviene però qualcosa di particolare. In altri raccolti di Maria di Francia, quando un personaggio viene a sapere della reale natura di una persona che accanto spesso magari l'aiuta per venire fuori da una maledizione, da questa metamorfosi che potrebbe essere problematica. Invece nella moglie di Bisclaveret, che fino a quel momento era stata dipinta come dama innamorata, nasce un atteggiamento completamente opposto, un totale rifiuto dell'alterità, dell'altra pelle del marito Lupo Mannaro, un terrore che si trasforma in un desiderio di non star più neanche un minuto insieme al marito che fino a poco fa diceva di amare. Scatta in lei un meccanismo, dicevo, di rifiuto totale dell'alterità, tanto che convoca presso il suo castello un suo vecchio pretendente che fino a quel momento aveva rifiutato categoricamente e improvvisamente invece si concede a lui in cambio di un favore che deve compiere. Dialogando con Bisclaveret, la dama ha scoperto il modo in cui l'uomo Lupo si trasforma, lasciando i suoi vestiti vicino ad una chiesa, altro segnale che Bisclaveret non è creatura demoniaca, quindi lascia i vestiti vicino ad una chiesa, nascosti sotto una roccia e si trasforma in Lupo, ma deve riacquistare, deve riprendere i suoi vestiti per ritrasformarsi in essere umano. Qui c'è una lunga genealogia che va indietro agli antichi, a Petronio, rispetto a questo lasciare i vestiti, ne parla Plinio naturalmente, però adesso non sto a dettagliare tutti questi elementi che riportano all'antico. Ecco, la dama chiede al suo spasimante di rubare questi vestiti, mentre Bisclaveret e Lupo, per lasciarlo per sempre nella sua unica identità di Lupo, allontanato dal consorzio umano e quindi da se stessa. E così accade. L'innamorato della dama prende questi vestiti e la dama si concede a quest'uomo che fino a quel momento invece aveva respinto e rifiutato, condannando Bisclaveret in qualche modo a possedere e a rimanere in una sola delle sue due identità. Perché nel caso di questo Lai molto particolare, l'essere Lupo-Mannaro, come vi dicevo prima, non è una maledizione. L'essere una cosa e l'altra, uomo e animale, è identità di Bisclaveret. Ma in qualche modo la donna con questo gestore gliene sottrae una, gliene allontana, per suo volere, in teoria per sempre, lo allontana da una delle sue due componenti fondamentali dell'identità, non riconoscendola, non volendola riconoscere. Passa del tempo e il re, che era molto amico del feudatario Bisclaveret, lo cerca in vano, finché durante una caccia il re si imbatte in un lupo molto particolare, che messo alle strette dai cacciatori, invece che ringhiare o scappare, si avvicina a lui e gli lecca lo stivane con devozione. Il re capisce che è un lupo particolare, dotato probabilmente di intelligenza, e lo porta nella sua corte. In effetti è proprio Bisclaveret che vive del tempo come lupo, docilissimo, come un cane, appunto, domestico, presso il sovrano. Si comporta sempre in maniera docile, fino a che un giorno giunge, proprio durante un banchetto, giunge l'uomo che ha preso il suo posto accanto alla dama, accanto a sua moglie. In quell'unica occasione si rivela, velocissima e prova più volte ad azzannare il malcapitato. Qualche tempo dopo si ripropone una situazione simile e questa volta la dama, che è venuta a sapere che il re si trova nelle sue terre, va a salutare il re, riccamente addobbata, riccamente vestita e con magnifici doni per il sovrano. Non appena Bisclaveret lupo vede la donna che lo ha tradito, la sua ira e rompe e con un balzo le morde il viso, sta strappandole con un morso il naso. Davanti a questa reazione violentissima, molti vorrebbero uccidere il lupo, ma il saggio consigliere del re suggerisce che una reazione del genere non era in nessun modo legata al precedente comportamento del lupo. Di conseguenza fanno in modo che la dama confessi il motivo di questo stranissimo atteggiamento. La dama rivela di aver condannato appunto Bisclaveret a essere per sempre lupo, rivela il luogo dove va nascosto i vestiti e ancora una volta, ottenendo i suoi vestiti, Bisclaveret può tornare a essere uomo, mentre la dama sarà uomo e lupo naturalmente, mentre la dama invece sarà esiliata per tutta la vita e, come per una maledizione magica, alcune sue discendenti nasceranno ancora una volta senza naso, come lei era stata snasata. Ancora una volta una questione di identità, perché la dama aveva fatto di tutto per sottrarre l'identità al marito. In qualche modo la perdita del naso rappresenta la perdita di una forma fondamentale dell'identità, dell'identità umana. Penso, per pensare alla modernità, al racconto magnifico di Gogol sul naso, sul naso sottratto, e dice in quel caso l'autore, un uomo senza naso non è né carne né pesce, insomma, ecco, non ha un'identità. E quindi ecco che quell'identità che la dama aveva provato a sottrarre al marito, non riconoscendo la sua alterità, seppure positiva, buona, appunto non è un lupo mannaro feroce, bisclavre, ma a questo non interessa assolutamente, la dama vede solo che è altro, e quindi da allontanare. Subisce una funzione simile, infatti commenta Maria di Francia, bene ha fatto bisclavre, anche questo gesto tremendo, naturalmente, che impone alla dama, ma rientra in questa logica dell'identità. Passando al secondo testo, quindi lasciando l'elemento dell'irriconoscibile, il secondo testo che ho analizzato è un poema cavalleresco in Middle English del XIV secolo, Sir Gawain and the Green Knight, quindi Sir Gawain è il Cavaliere Verde. Anche qui c'è una questione legata all'identità e al rapporto fra identità e altro perturbante. durante le feste di Natale, improvvisamente, un cavaliere verde, letteralmente verde, non soltanto perché è vestito di verde, ma con la pelle, con i capelli verdi, si presenta alla corte di Artù e sfida i cavalieri della tavola rotonda a una sfida di coraggio, che ha radici antropologiche profonde, risale alla cultura celtica, che già aveva elaborato narrazioni di questo tipo. Qual è la sfida del Cavaliere Verde? Chiede a uno dei presenti di infliggergli un colpo con un'ascia che ha con sé. Esattamente un anno dopo la persona che l'ha colpito riceverà lo stesso colpo che il Cavaliere Verde ha subito. È un gioco, un gioco natalizio, se vogliamo, e così lo presenta il Cavaliere Verde, in effetti. Un gioco di coraggio che però viene subito interpretato da Artù soprattutto come quello che in inglese viene definito un Behaving Game, cioè un gioco di decapitazione che, vi dicevo, ha tante tante relazioni nella nella mitologia celtica e in storie che precedono anche questa. Perché Artù lo interpreta come Behaving Game? Il colpo in effetti potrebbe essere lieve, il Cavaliere non parla di un colpo potente, il colpo potrebbe essere lieve e l'avversario ricevere un colpo lieve, tutto sommato, dopo un anno. Artù invita invece Gawain, che ha accettato la sfida, a colpire in modo che l'avversario non potesse restituire il colpo. E qual è l'unico modo? Beh, decapitare l'avversario, ucciderlo con un colpo solo. In effetti Sir Gawain accoglie il suggerimento di Artù e con un colpo netto decapita il Cavaliere Verde. gesto inutile, in realtà, perché poco dopo, pochi istanti dopo, il Cavaliere Verde riprende la sua testa, ribadisce la sfida lanciata ai Cavalieri della tavola rotonda. Conosceremo poi successivamente che l'origine della sfida è Morgana, naturalmente, che voleva mettere proprio alla prova l'onore, il valore dei Cavalieri di Artù, probabilmente conoscendone anche l'aspetto violento, in qualche modo, perché diversi interpreti hanno notato come questo testo, XIV secolo, quindi siamo già avanti rispetto ad altri testi arturiani, metta in luce anche questa componente del codice del Cavaliere, che è fatto in qualche modo anche di questo e forse dovrebbe essere superata questa dimensione. Di conseguenza, Morgana vuole mettere alla prova i Cavalieri, i Cavalieri di Artù. Sir Gawain si prepara per un anno intero a ricevere il colpo a sua volta, a realizzare quanto era previsto all'interno di questo gioco, ma non sa esattamente dove cercare l'avversario, sa che deve recarsi verso una green chapel, una cappella verde, ma non conosce esattamente con certezza dove si trovi questo luogo. Si dirige, però rispettando il fatto, dopo un anno grossomodo nella direzione dove immagina possa trovarsi. Poco prima che scada questo anno, quindi siamo tornati di nuovo vicino alle festività natalizie, pregando Maria, che ha dipinto all'interno del suo scudo, pregandola di poter celebrare in una chiesa in Natale, arriva a vedere un castello, un castello dove viene accolto festosamente, tutti sanno chi è, la sua fama è giunta fino a questa terra, questa terra lontana, ben distante dalla corte di Artù, lo accolgono con grande festa. Il castellano, si chiama Bertilac, lo accoglie e spesso Sir Gawain può discutere e passare giorni felici, i giorni del Natale, insieme a lui e alla dama moglie del castellano. C'è anche una figura misteriosa, una donna anziana che guarda queste scene spesso tacendo, non ha un rapporto diretto con Sir Gawain, scopriremo poi che questa donna è proprio Morgana, cioè con lei che ha organizzato tutto questo gioco sull'identità, sul riconoscimento, sull'onore. Sir Gawain può trascorrere tre giorni nel castello perché mancano tre giorni alla data fissata per la restituzione del colpo, anche perché viene a sapere che la Green Chapel si trova proprio lì vicino, è stato fortunato e ha trovato il luogo dove potrà compiere il suo gioco, portare a termine questo gioco, però legato ormai alla decapitazione, perché Sir Gawain sa bene che dovrà ricevere lo stesso colpo che ha inflitto, quindi dovrà essere decapitato, soltanto che lui non è una creatura magica come il Green Knight e probabilmente morirà di questo colpo. Però, e qui c'è l'onore del cavaliere, vuole, anche se con molta preoccupazione, affrontare questo passo. Nei tre giorni che attendono la sfida, precedenti alla sfida, Bertilac invita Gawain a rimanere nel castello a riposarsi del lungo viaggio, mentre lui andrà a caccia e instaura un nuovo gioco. Tutto quello che Bertilac conquisterà nella foresta andando a caccia lo donerà a Gawain, mentre Gawain dovrà donargli ciò che ha conquistato nel castello. Il cavaliere accetta anche questo altro gioco natalizio e mentre il signore del castello è a caccia si gode un meritato riposo. Riposo in realtà che però viene in qualche modo tormentato, seppure dolcemente, dalla presenza della dama, dalla moglie di Bertilac, che invece che lasciarlo riposare si reca sempre a prima mattina nella sua stanza, offrendoli che cosa? Offrendoli in modo cortese, naturalmente, secondo le regole dell'amor cortese, il suo stesso amore. La dama riconosce in Gawain la quintessenza della cavalleria, quindi un cavaliere così celebre come Gawain può insegnarle naturalmente la cortesia e l'amore. La dama, che dice di vivere in un luogo lontano da queste usanze, è curiosa di conoscere che cos'è l'amore dei cavalieri, l'amor cortese, e prova a sedurre sapientemente il cavaliere, che però non vuole rompere il vincolo di ospitalità che ha creato con Bertilac, e quindi vuole in qualche modo rifiutare le avanze della dama, anche se per cortesia deve comunque ricambiare l'affetto che viene dalla castellata. E si installa questo gioco di specchi, mentre Bertilac mette alle strette le fiere, le prede che vuole cacciare, dei daini, un cinghiale, una volpe a seconda dei suoi giorni, la dama mette alle strette Sir Gawain, tenendolo con le coperte del letto, fermo nel letto e avvicinando le sue labbra sempre di più alle sue. Quello che riesce a conquistare la dama sono dei baci da Sir Gawain, baci che naturalmente Sir Gawain restituirà a Bertilac, quando Bertilac donerà prima dei danni, poi un cinghiale e poi la volpe, naturalmente Gawain restituirà i baci che ha conquistato, quindi il primo giorno restituirà un bacio, il secondo due, il terzo tre, in questo crescendo. Mentre i doni in qualche modo di Bertilac si fanno minori, i doni di Gawain si fanno sempre maggiori, nel senso che il primo giorno Bertilac è molto contento di aver portato dei cervi, dei daini, in dono, l'ultimo giorno ha solo una volpe con sé, una volpe da dare al suo nuovo amico che ricambia con ben tre baci, quindi Bertilac sembra di aver perso in qualche modo da sfida. Ciò che è interessante è che l'ultimo giorno, la dama, ciò che è più interessante è che la dama nell'ultimo giorno ha un altro dono oltre i baci da dare a Sir Gawain, e cioè una cintura verde che lo renderà immune a qualsiasi colpo. Gawain non ha rivelato alla dama dove, o meglio sì, dove deve andare la Grinchapel, ma cosa deve fare nella Grinchapel. Quindi Enel glielo dice ulteriormente, ma sa che quella cintura verde potrebbe aiutarlo in qualche modo nella sfida di decapitazione, se questa cintura gli garantirà l'incolumità potrebbe rimanere vivo. E qui compie una piccola infrazione al suo codice d'onore, perché dovrebbe donare anche questa cintura a Bertilac, che anche questo è un dono che ha ricevuto, ma si limita a ridargli i tre baci che la dama gli ha dato in quel giorno, non dà la cintura. E con la cintura si rega finalmente presso la Grinchapel, dove deve ricevere il colpo. Deve ricevere il colpo e naturalmente ha la cintura. Il cavaliere verde fa da primo un colpo che Gawain cerca di schivare, ma non sono questi i patti, viene rimproverato dal cavaliere, ma rimette la testa a disposizione. Il secondo colpo è una finta del cavaliere, che non lo colpisce veramente. E infine c'è il terzo colpo, che è quello vero e proprio, quello in cui il cavaliere dovrebbe essere decapitato. Ma il Green Knight si limita a fare leggera ferita sul collo di Gawain, dicendolo ormai, dicendo che ormai il suo compito è assolto. Gawain in realtà capisce bene che qualcosa non è andato come avrebbe dovuto, e quando soprattutto il cavaliere verde rivela di non essere altro che lo stesso Bertilak, il castellano che l'aveva ospitato, e quando Bertilak gli dice di sapere benissimo che lui ha con sé quella cintura verde che la moglie le aveva donato come pegno d'amore, ma che lui non aveva restituito nel gioco precedente. Davanti a questa rivelazione, Sir Gawain è pieno di vergogna e in qualche modo crea per sé stesso una identificazione negativa. Per lui questa situazione vuol dire aver completamente fallito la prova, aver completamente perso il suo onore di cavaliere e di non meritare la fama che porta. E qui interviene invece la questione di una forma di identità che nasce dall'incontro con l'altro. Sia Bertilak sia poi Artù, quando Gawain tornerà a Camelot, non hanno affatto la reazione che ha Gawain inizialmente rispetto al suo presunto fallimento. Anzi, sia per Bertilak sia per Artù, si tratta di una piccola colpa, anzi Artù farà in modo che da quel giorno in poi tutti i cavalieri della tavola rotonda portino con sé una fascia verde al ricordo della cintura verde e anche della ferita riportata sul collo da Gawain. Quindi abbiamo, attraverso l'incontro con l'altro perturbante in questo racconto, qualcosa di nuovo. Un'identità ferita. Gawain sente in qualche modo di aver perso quell'idea di cavaliere perfetto, rappresentato dal pentacolo che ha disegnato sul suo scudo. Si rende conto che la sua identità non è più quella, che la ferita in qualche modo l'ha cambiato, ma l'ha cambiato in qualcosa di nuovo, forse di certamente differente, ma in qualche modo, ci sembra dire, l'anonimo autore di questo testo, anche qualcosa di migliore. Nel senso che, come diversi udiosi hanno fatto notare, si crea una nuova idea di cavalleria, una nuova idea di società, come società a tavola rotonda di uomini imperfetti, non che non si identificano più nella perfezione, però, schematica, fredda, del cavaliere del pentacolo, del cavaliere che rappresenta delle virtù astratte, ma l'incontro con l'altro questa volta ha creato una identità ferita, sicuramente, ecco l'immagine della ferita al collo di Gawain, ma cresciuta nell'incontro con l'altro. Infine, per concludere, l'ultimo testo che ho preso in considerazione è il poema giorgiano, siamo fra XII e XIII secolo, di Sciottaro Stadelli, intitolato Il cavaliere con la pelle di Pantera. Mi ha fatto molto piacere scrivere di questo testo, perché in realtà in Italia, in italiano, c'è molto poco. Ci sono alcuni articoli molto belli di Magarotto, un paio di studi di Shalva Berizzè, che è stato il primo traduttore italiano di questo testo, però è un testo poco conosciuto, anche perché nessun grande editore poi ne ha fatto una traduzione. ci sono tre traduzioni italiane, però una sola è dal georgiano, è del 1945, l'editore Bianchi Giovini, e poi due traduzioni successive, però sono traduzioni di traduzioni, perché vengono dal francese o dall'inglese, quindi l'unica traduzione è dal georgiano, del 1945, di Shalva Berizzè, poi non sono stati fatti altri tentativi in Italia di traduzioni di questo testo, e Umberto Eco, una sua bustina di Minerva, scrisse scherzando, Sciottaro Stavilli, chi era Costugni? Ecco, con il terzo capitolo del mio libro ho provato a rispondere per il pubblico italiano a questa domanda, però al di là del poema in generale, di cui non posso parlare adesso, concentriamoci sul tema che ho seguito all'interno del mio libro, sempre la questione dell'identità e del riconoscimento. In questo poema possiamo fare un passo avanti ancora, sempre come lettori moderni, cercando dei significati anche per noi. In quanto ho visto in questo testo l'idea del mutuo riconoscimento, il passaggio completo dall'altro al sé che serve non soltanto a riconoscere l'altro, ma anche a riconoscere pienamente se stessi. Perché? In questo poema sono protagonisti due grandi cavalieri, due che diventeranno grandi amici. Il primo è proprio il cavaliere con la pelle di pantera, cioè Tariel, un principe indiano. Il secondo è invece un guerriero, un cavaliere arabo, Aftandil. È curioso che i georgiani abbiano come poema nazionale un poema dove non c'è nessun georgiano. E già questa è un'idea molto interessante, lontana da un'idea di nazionalismo in senso stretto. Quindi nel poema nazionale dei georgiani sostanzialmente non c'è nessun georgiano. I due protagonisti sono un arabo e un indiano. Questo anche per l'amore, per la letteratura persiana, e per i rapporti che già in quell'epoca la Georgia aveva avuto in qualche modo con l'India, quindi con interesse, per le letterature orientali, nonché anche, magari lo vedremo, per quella greca. Sotaru Stavelli è autore molto colto, che sicuramente ha rapporti sia con i romanzieri persiani, i nizami, ma anche con la cultura greca. Ci sono stati studi, e io ho aggiunto qualcosa sui rapporti, per esempio, con Nonno di Panopoli e le sue Dionisia, che hanno degli eti nel testo di Rustavelli, ma tanti altri testi, l'Odissea, naturalmente, ma come anche il Ramayana, però. Questo testo è affascinante, perché mette insieme Grecia e India, passando anche per la Persia. Ecco, quindi questo testo è particolarmente complesso e affascinante per tutti i motivi. Dicevo, appunto, un crogiolo, la possibilità di un incontro fecondo e creativo con questi due protagonisti. Cercherò di essere breve in questo, perché siamo già andati avanti con il tempo. Il Cavaliere con la pelle di Pantera si presenta improvvisamente, misteriosamente, agli occhi di un sovrano da rabbia e del suo primo cavaliere, appunto, Aftandil. È un personaggio malinconico, misterioso. Chiunque si avvicini a lui fa una bruttissima fine, perché questo cavaliere non vuole parlare con nessuno. Anche il re Aftandil si avvicinano, ma a quel punto il Cavaliere, rendendosi conto, Tariel, rendendosi conto che ha davanti un sovrano, preferisce fuggire rispetto alla possibilità di ucciderlo e quindi scappa. Da quel momento in poi il sovrano arabo è malinconico, perché vuole conoscere la storia di questo misterioso Cavaliere vestito, rivestito da una pelle di Pantera e manda sui servitori ma non c'è traccia più di questo Cavaliere. A questo punto la figlia del sovrano Tinatin, bella e saggia, destinata a diventare unica figlia, destinata a diventare regina dopo il padre, invita Aftandil, che naturalmente è innamorato di lei, a lanciarsi alla ricerca di questo Cavaliere introvabile, perché nel frattempo anche Tinatin, dai racconti, ha sviluppato curiosità per questo misteriosissimo altro vestito con questa pelle assolutamente altra. Aftandil cerca per tre anni Tariel pur di portarlo dalla sua amata o per dare alla sua amata notizia, notizie di questo Cavaliere, tanto da diventare Mishnuri in georgiano, Majnun si direbbe in persiano, cioè folle, folle esattamente come Tariel. Nel momento in cui, a causa della lontananza dalla sua amata, Aftandil soffre, si dispera e diventa folle d'amore, in quel momento è possibile l'incontro con l'altro folle d'amore, con Tariel, perché avverrà a questo punto, dopo tre anni, l'incontro finalmente, in maniera fortuita, riesce a trovarlo, ma scopre che la malinconia, il mistero che avvolge Tariel e il suo stesso avere addosso la pelle di Pantera è dovuto a un'altra grande sofferenza d'amore. Anche Tariel è un Majnun, un folle d'amore, come per la tradizione dei romanzi di Nizami persiani, e perché gli è stata sottratta l'amata Nestan, Nestanda Rejan, principessa indiana, che però, a differenza, anche lei in teoria erede al trono perché è unica figlia del sovrano indiano, ma a differenza invece del sovrano persiano, esclusa in qualche modo da questa discendenza, da questa eredità, che invece era stata immaginata per un suo eventuale sposo, appunto, ma non per lei, non direttamente. L'incontro fra Aptandil e Tariel nell'incontro tra due anime che riescono nella loro diversità, ma nella loro somiglianza, a riconoscersi completamente. Ecco, come terzo esempio di mutuo riconoscimento del completamento di questo percorso, siamo partiti dall'irriconoscibile della sposa di Disclavret fino ad arrivare al completo riconoscimento nel dolore, nel dolore d'amore dei due personaggi, Aptandil e Tariel, che da quel momento in poi diventeranno inseparabili, a loro volta in qualche modo invaghiti uno dell'altro di questa grande amicizia, attraverso questa grande amicizia e riusciranno naturalmente a ritrovare Nestan, la donna amata da Tariel e a riportare Nestan e Tariel sul trono indiano e loro stessi diventeranno poi sovrani d'Arabia, creando amicizia eterna fra i due popoli, eterna, come è, fino a loro, naturalmente, la loro vita, naturalmente, fino a che rimarranno loro in vita. e quindi, in questo terzo, in questo terzo testo che ho voluto analizzare, l'idea del riconoscimento si espande, parte dal mutuo riconoscimento dell'asse, fino a diventare politica dell'amicizia fra popoli e questo mi è sembrato il grande, ecco, il grande dono che ci fa questo, questo poema, un dono quanto mai, quanto mai attuale e con questo magari concludo la mia riflessione. E sono, sono davvero particolari tutti e tre, no? Sì, tra l'altro, a parte Maria di Francia che ha una certa notorietà anche tra i lettori meno attenti, gli altri due sono veramente poco conosciuti e molto particolari per il periodo. e per fortuna Sir Gawain and Green Knight ha avuto anche una traduzione ad Elfi, quindi ha avuto un'introduzione dei Boitani, quindi ha avuto un maggiore riscontro. Ecco, su Shotaro Stavelli forse bisogna fare ancora tanto e spero che il mio libro possa contribuire a questo. Perfetto, io sono molto contento e la ringrazio di averlo presentato con noi e a tutti i nostri videoascoltatori ricordo due cose. La prima è il titolo così corrono in libreria a comprarlo. Il titolo di questo volume è Con altra pelle. Maria di Francia, Shotaro Staveil e il Cavaliere Verde pubblicato quest'anno da Liguori Editori e scritto da Roberto Talamo che abbiamo avuto il piacere di avere il nostro gradito ospite. A tutti voi ricordo di continuare a seguirci sul nostro canale YouTube dove trovate tutte le nostre video presentazioni. Grazie ancora e spero presto. Arrivederci. Grazie a tutti.